Quindi ora stiamo applicando il metodo di confronto. Metodo numero 3. Allora, che significa applicare il metodo di confronto? Significa arrivare a confrontare un membro con l'altro membro, i due primi membri con i due secondi membri. Significa arrivare ad ottenere un primo membro dell'equazione numero 1 uguale all'altro primo membro e quindi per forza di cose confrontare le altre. Allora, non so se notate, se io isolo la x, quindi mi porto le y dall'altra parte, siamo sempre nella stessa situazione. Qua abbiamo due x e qua abbiamo x. Non ci siamo. Se isolo la y, peggio che andare di notte. Però mi piace questa x. Mi piace molto perché in realtà mi è sufficiente pensare di moltiplicare la seconda per 2 ed arrivare ad ottenere queste qua, come abbiamo fatto prima, ed arrivare ad ottenere qui ancora una volta il 2. Allora, guardate. Stesso discorso di prima. vado a moltiplicare per 2 questa. Certo. Quindi ottenendo, questa la riscrivo, 2x meno y uguale 4 e qui ho 2 per x fa 2x, 2 per 3 fa 6, più 6y, 2 per 9 fa 18. Adesso che fai? Attento, perché il confronto non l'abbiamo fatto ancora. Isola al primo membro la x e porta tutto dall'altra parte. Attenzione. Prendo questa meno y e la porto di là. Ottengo 2x uguale 4 più y e qui ottengo 2x uguale 18 meno 6y. Ci siamo? Ok. Adesso ecco il confronto. Ora avviene il confronto. Confronta i primi membri. Sono uguali. Allora la matematica dice, se i primi membri sono uguali, devono essere uguali anche i secondi membri. Quindi anche questi devono essere uguali. Uguagliali. Quindi hai 4 più y uguale 18 meno 6y. Prendi il meno 6y e lo porti di qua. Prendi il 4 e lo porti di qua. Quindi ottieni y più 6y uguale 18 meno 4. 7y uguale 14. Ancora una volta y uguale 2. E abbiamo ottenuto il solito nostro valore. Per ottenere la x, che fai? Sempre il solito discorso. Ti prendi una delle due, sostituisci e ti trovi la x. Facciamolo. Lo facciamo qua. Ciao Giandi, benvenuto. Lo facciamo qua. Y uguale 2. Beh, qual è più comoda di queste due? Sicuramente la seconda. Perché come potete vedere la x sta bella sola sola. Quindi io ho x uguale 9 meno 3y, perché questo me lo porto da questa parte, diventa negativo. Quindi x uguale 9 meno 6, perché qua sostituisco, cioè x uguale 3. E ho ottenuto la mia x. Fine del confronto. Miei love, ecco altri due video per voi. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!